Informazione preventiva in emergenza è diviso in due parti. Il documento tecnico intitolato L'informazione alla popolazione per gli scenari previsti dal Piano Nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Il testo, diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile, è stato realizzato in collaborazione con un comitato composto dai rappresentanti dei Ministeri della Salute, dell'Interno e della Transizione Ecologica, dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Conferenza Unificata, cioè componenti di regioni, province e comuni. Il Comune di Fano, anche attraverso i media, ha provato a divulgare in queste settimane il comportamento che i cittadini devono tenere in caso di calamità naturale. In particolare ci siamo concentrati sull'alluvione, di terremoto, eccetera. Ma ci sono altri rischi contemplati nel Piano di Protezione Civile che potete comunque sempre consultare presso il sito del Comune di Fano, che riguardano i rischi legati ad altre fonti. Ad esempio sul rischio nucleare radiologico alcune prevenzioni in caso di emergenza ovviamente bisogna prenderle. Mentre nelle situazioni normali quello che noi diciamo le persone è quello di uscire, andare al centro di raccolta, eccetera, per ricevere l'assistenza, in questo caso nucleare e radiologico il rischio si combatte stando in casa, chiudendosi in casa. Se si è all'esterno si deve tornare subito a casa, si devono togliere i vestiti, bisogna fare la doccia, bisogna custodire i vestiti in maniera tale che possano essere facilmente anche isolati rispetto al contesto. e quello che prevede il Piano in questi casi è quello di chiudersi in casa, stare in casa, chiudere tutte le fonti diciamo di ingresso dell'area perché questo è proprio il caso in cui una nube tossica radiologica potrebbe, come dire, entrare nelle nostre case. È un scenario particolare, veramente raro, però è uno scenario possibile e lo vediamo a volte quando succedono degli incidenti particolari dell'azienda. Dopo tutte queste attività, infine, occorrerà aspettare in casa le istruzioni che arriveranno tramite media da parte del Governo, delle strutture provinciali e anche da parte del Comune e della protezione civile. Presidente Olivi, qual è il compito in questi casi del Cibi Club Mattei? Il Cibi Club Mattei è volontariato, quindi come in tutte le attività il volontariato si mette a disposizione delle istituzioni. In questi casi, soprattutto, occorre in aiuto, in determinati casi, informazione alla popolazione. Ad esempio, non tutta la popolazione riesce immediatamente tramite i media ad essere informate. A volte occorre la macchina coltaparlante oppure il volontariato direttamente in casa. In questi casi, perché, come diceva l'assessore, è importante, a differenza del terremoto che bisogna uscire o allontanarsi, come stiamo dicendo, in queste settimane dalle piante, dal maltempo, in questo caso bisogna comunque rinchiudersi e avere meno contatto possibile. A volte, dai vigili del fuoco e dall'autorità, vengono create proprio delle zone rosse e noi siamo a copertura e cancelli affinché la gente non si avvicini, non entri nella zona rossa. Poi c'è tutta la parte sanitaria. Da parte nostra, l'ultima esercitazione che abbiamo fatto con la prestatura, abbiamo dato alla disponibilità di una grossa tenda un prefiltro dove i sanitari arrivavano ad avere i primi soccorsi. In pratica noi mettiamo a disposizione l'attrezzatore, i mezzi e i volontari per quello che necessita al fine di superare in pratica questa emergenza, a disposizione come sempre dell'autorità.